Se ci pensi, è successo tutto nella zona di Via del Malpertuso. Vorrei proprio andarci. Ti va di accompagnarmi? Va bene, ma ricorda che sono un uomo di scienza e non crederò facilmente ai fantasmi. Ciao ragazzi, ho sentito di sfuggita qualcosa sui fantasmi. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Grazie a tutti. E ribadisco, fonti dicono che la data probabilmente fosse il 28 settembre. Grazie a tutti.